In totale saranno esposte 250 opere fra dipinti, disegni, bozzetti, teatrali e non sculture ceramiche. Dal 14 maggio di quest'anno fino al 21 febbraio 2025 Bruxelles ospiterà 6 mostre allestite fra l'Istituto Italiano di Cultura e l'Ufficio di Collegamento della Regione, protagonisti 5 artisti triestine e 5 artisti triestini e friulani. L'iniziativa ideata e curata da Marianna Cerboni è stata presentata oggi in Regione. La prima esposizione è in programma dal 14 maggio al 31 luglio. L'arte triestina e il femminile del Novecento d'avanguardia italiano ed europeo proporrà opere di Leon Orfini, Maria Lupieri, Maria Melan, Anita Pittoni e Miela Reina. Dal 5 settembre 2024 al 21 febbraio 2025 la Regione Friuli Venezia Giulia attraverso i suoi artisti presenterà opere realizzate da Giorgio Celiberti, Claudio Mario Feruglio e Tony Zanussi e da Edoardo Devetta e Livio Rosignano. Le mostre saranno caratterizzate da un taglio multimediale costituito da un intreccio molto contemporaneo tra arte visiva, musica e luce con proiezioni luminose e performance musicali. Dopo Bruxelles le esposizioni saranno trasferite in altri istituti di cultura e sedi istituzionali italiane nel mondo e a Trieste.